Io devo parlare di una buona prestazione, perché il primo tempo siamo partiti bene, secondo me, fino all'espulsione la squadra ha prodotto gioco, abbiamo creato un paio di pressioni per fargono, ci siamo usciti, eravamo in controllo della partita, poi l'episodio dell'espulsione ha un po' cambiato i piani, si è rientrati il secondo tempo bene, perché non ho visto una squadra che giocava in dieci rispetto all'altra, sembrava che comunque il Tenomo avesse ancora il pallino del gioco in mano, poi c'è stata la seconda espulsione, ma non è cambiato niente, perché la squadra ha continuato a giocare, e quindi mi trovo a commentare una sconfitta, se abbiamo perso comunque la Gaseltana ha meritato più di noi, la accettiamo, andiamo avanti, e questo è il mio commento. Grazie a tutti.